Roma è una città molto particolare. Era stata costruita dopo il grande incendio dell'inizio del IV secolo a.C. in maniera non organica, non secondo quei piani regolari dei quali abbiamo delle informazioni molto precise per le città ellenistiche, per Alessandria d'Egitto, per Mileto, per Antiochia, ma era una città non bene organizzata, disorganica, con tagli delle strade irregolari e quindi diciamo che una delle cose che si osservavano nel mondo antico era che la città non fosse in qualche modo all'altezza del suo ruolo di capitale. Bene, quello che in realtà Augusto fece è cercare di dare una nuova immagine di Roma, capitale di un impero, ma lo fece in una maniera molto particolare, cercando cioè di non toccare troppo il centro antico, la Roma Vetus. Lì gli edifici nuovi furono inseriti un po' a macchia di leopardo, in una struttura che restò come impianto complessivo quello antico, ma intervenne in nuovi quartieri, specialmente nel Campo Marzio, dove avendo a disposizione in uno spazio libero, ebbe la possibilità di realizzare un quartiere di monumenti e un grande quartiere monumentale di novità inaudita anche per i greci e lo sappiamo perché Strabone, il grande geografo greco che conosceva bene le città greche dell'Asia minore e della madrepatria, descrisse il Campo Marzio e il Mausolo di Augusto come una delle meraviglie del mondo contemporaneo.